Il discorso della sicurezza digitale nelle nostre imprese molto spesso viene ridotto a quello di mettere in campo un certo tipo di tecnologia, ma ovviamente questo non è abbastanza. La questione della sicurezza digitale deve essere fondamentalmente parte integrante del nostro business, deve coprire ed essere parte di tutto lo spettro dell'attività di cui la nostra azienda tratta. Questo vuol dire che si parte dalla definizione delle policy, poi si passa alla definizione dei processi aziendali, si selezionano le tecnologie adatte a proteggere il particolare tipo di situazione che stiamo affrontando, queste tecnologie vengono poi messe in campo e alla fine si passa anche a gestire un aspetto estremamente importante che è quello della formazione, dello sviluppo della nostra forza lavoro che deve essere parte integrante di questo processo che è appunto il mettere in sicurezza le nostre imprese. Non fare questo tipo di considerazioni quando si considera la sicurezza digitale all'interno delle nostre imprese lascia praticamente aperto il fianco della nostra impresa a tutti quegli attacchi che arrivano un po' da tutte le direzioni. Questo ovviamente ha dei risultati devastanti per le nostre aziende, per esempio danni significativi dal punto economico e anche danni significativi alla reputazione delle nostre aziende. Per quello che riguarda il cosiddetto nation state malware io direi che ci dobbiamo un po' tutti preoccupare, ma da un punto di vista sociale, da un punto di vista più pratico, per quello che riguarda gli individui e le imprese, la probabilità di diventare dei bersagli diretti direi che è estremamente ridotta. Ovviamente poi queste considerazioni vanno rifatte nel contesto specifico dell'entità particolare che pone questa domanda. Grazie. Grazie. Grazie.